Era a bordo di un'auto rubata visibilmente ubriaco. Per questo motivo un uomo di 45 anni è stato denunciato per recettazione, guida senza patente, guida in stato di ebrezza e immigrazione clandestina. Attorno alle 20 di martedì, carabinieri di Verano Brianza sono transitati per via Nazario Sauro nel parcheggio all'aperto di un supermercato e hanno così notato la presenza di una Fiat Punto di colore scuro con una persona a bordo e hanno deciso di fermarsi per un controllo. Il 45enne ha sin da subito evidenziato i classici segni dell'abuso di alcol, sottoposto agli esami e risultato positivo con un tasso di oltre 1,6. Immediatamente i militari hanno accertato che si trattava di un uomo senza fissa dimora, nulla facente, pluripregiudicato per reati contro la persona, il patrimonio in materia di stupefacenti e inerenti al codice della strada, attualmente sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Inoltre hanno constatato che la Fiat Punto è di proprietà di una donna 61enne rubata la notte precedente a Monguzzo. L'uomo è stato quindi accompagnato in caserma per le formalità del caso che si sono concluse con la denuncia in stato di libertà per i reati di recettazione, guida senza patente, tra l'altro mai conseguita, guida in stato di ebrezza e immigrazione clandestina.